Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Saccatura depressionaria in transito con piogge e temporali sull'Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 24 ottobre. Tempo instabile al mattino sul nord-est, regioni del centro, campania e molise con piogge e acquazzoni sparsi. Variabilità asciutta al sud. Al pomeriggio fenomeni lungo l'Adriatico e sulle zone interne del centro-sud, localmente anche intensi, più asciutto sul nord-ovest e settori tirrenici. In serata è notata residui piogge sul basso versante Adriatico, più asciutto altrove ma con nubi basse sulla pianura padana. Temperature minime in calo al nord-ovest e in aumento altrove, massime, stabili o in rialzo specie al nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.